Nutrire il pianeta è energia per la vita e Milano diventa il punto d'incontro per tutti i paesi che vogliono riflettere e confrontarsi per cercare e trovare soluzioni alle disparità alimentari e nutrizionali che dividono circa 870 milioni di persone che soffrono di malnutrizione dal resto delle popolazioni che soffrono di disturbi legati ad un'alimentazione eccessiva e scorretta e al consumo di troppo cibo. Una grande vetrina è un importante luogo di dibattito, quindi Expo 2015, per ritrovare la sacralità del cibo e il suo valore etico, che è sanità di tutti gli esseri viventi. La società SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, fa un focus sul cibo come medicina e a parlare esperti, ricercatori, esponenti della società civile e non solo. Il convegno si svolge nella press conference room di Expo Center. Professor Miani, un evento che ho già visto passare, rassegna gli aspetti più importanti che riguardano l'ambiente, riguardano l'alimentazione, riguardano i rapporti delle regioni con il governo centrale e non solo. Quindi l'anima di questo convegno? L'anima di questo convegno è quello, come ha detto bene, abbiamo voluto radunare qui tante istituzioni, tante associazioni, tra cui anche il WWF, che è uno probabilmente più importante, movimento ambientalista al mondo, qui abbiamo la rappresentanza italiana, Lega Consumatori, Opera San Francesco, tante fondazioni impegnate sul territorio e persone della società civile, per farci tutti portavoce di un messaggio molto importante, è quello della salvaguardia ambientale che può passare attraverso anche una sana e una buona alimentazione, per esempio quella della dieta mediterranea. Dieta mediterranea che è stato sollecitato recentemente anche dalla FAO, deve essere salvata e salvaguardata, perché fa bene alla salute umana, perché contiene alimenti nutraceutici e funzionali primari, ma fa molto bene anche all'ambiente, perché è la dieta rispetto alle altre diete più diffuse nei paesi occidentali che ha un minore impatto ambientale. E quindi è la dieta che contemporaneamente consente tre fattori, quello di fare bene all'ambiente, quindi riducendo emissioni di CO2, riducendo consumo di acqua e consumo di suolo, quello di fare bene allo spirito, perché la dieta mediterranea lo sappiamo bene noi italiani, vuol dire anche stare in compagnia, fare convivialità, aggregare e quindi genera automaticamente anche il buon umore, come anche il buon cibo che fa parte della dieta mediterranea genera buon umore. E poi c'è l'aspetto fondamentale che è quello della salute, che incide come abbiamo sentito oggi nel convegno da parte di politici, da parte di amministratori regionali e locali, incide anche sulle finanze, incide sul PIL, incide sul PIL lo spreco alimentare, ma incidono sul PIL anche tutte quelle malattie che si chiamano malattie del benessere, come per esempio l'obesità, con tutte le problematiche che possono conseguire dall'obesità, incidono in costi economici di farmaci, quindi come diceva giustamente anche l'assessore Mantovani, assessore regionale di Lombardia alla salute, ci ricordava come, e io lo condivido e lo sposo a pieno, come un cibo di qualità, un cibo sano, un cibo funzionale ci fa consumare meno farmaci e quindi ci fa risparmiare in termini economici e contemporaneamente ci fa stare meglio. Il convegno di oggi ha una valenza strategica importantissima perché cibo e ambiente rappresentano le due caratteristiche forse principali che rendono l'Italia anche unica nel mondo. Unire cibo e ambiente con le capacità di ricerca che ci sono nelle università italiane, portando tutto questo a contatto con gli investitori, anche stranieri, può veramente determinare una nuova chance per l'Italia dal punto di vista di ripresa, crescita e occupazione. Quindi diciamo una grande valenza questa iniziativa anche dal punto di vista economico e occupazionale. Siamo in questo tempio che riguarda l'alimentazione, riguarda il cibo, riguarda il futuro del nostro pianeta. Lei ritiene che nei governi regionali ci sia eticità nell'affrontare questi problemi? Se devo dire la verità non credo, nel senso che non si fanno, che qui non si leggifera vedendo il sistema alimentare e tutta la filiera. Questo io lo dico perché per noi il cibo è molto importante, per noi ospedali. Spesso quando si dice che in ospedale si mangia male, la gente non sa a quello che noi siamo sottoposti e anche a tutte le filiere che sono incredibilmente burocratizzate per poter dare il cibo agli ospedali. Quindi cibo che diventa nutrimento, diventa cura, cibo che diventa fondamentale per un ecosistema totale? Sì, oltre questo penso cibo che è filosofia, è cultura e soprattutto all'interno delle nostre aziende è anche tecnicità medica perché spesso, soprattutto nelle strutture per anziani, bisogna indurre il paziente a mangiare. Quindi dietro al cibo ci sta un po' ogni argomento della vita quotidiana. Anche un fatto sociale allora? Assolutamente sì, è un fatto conviviale. Avvocato, abbiamo sentito avvocato. Ecco, nel suo intervento una cosa mi ha colpito abbastanza, questa sensibilità verso i bambini. Bambini che rischiano, se non seguiti bene, di essere da una parte obesi e da un'altra parte saranno bambini che soffriranno fame perché il mondo ormai è diviso, abbiamo visto. Ma secondo lei da Expo possono venire delle indicazioni giuste per progetti di rivalutazione un po' di tutta? Beh, direi che se non vengono da Expo bisognerebbe seriamente preoccuparsi. Anzi Expo, già sin dalla determinazione di quello che doveva essere l'oggetto di Expo, il tema di Expo, è partito questa, insomma, in qualche modo questa riflessione generale, senza dubbio nei nostri territori ma anche al di fuori dei confini nazionali su cosa è il cibo e su quanto bene o male può fare tra l'altro il cibo. È da eventi come questi che bisogna poi passare da quella che è una riflessione ai fatti veri e propri e direi che proprio in Expo con questo confronto universale tra le varie culture ma anche tra quelle che sono le varie politiche, beh, può uscire di qualcosa di assolutamente positivo ma soprattutto concreto. Abbiamo, ci siamo, insomma, in qualche modo scambiati i dati preoccupanti da una parte rispetto a quello che è il cibo che viene buttato dall'altra da quello che sono invece i problemi legati a un eccesso di cibo come l'onvesità piuttosto che il diabete beh, adesso tutti insieme forse è il caso che ci mettiamo a lavorare per formare le nuove generazioni e per fare in modo che magari siano loro ad insegnarci qualcosa. Noi certo dobbiamo presentargli e lavorare per un mondo migliore ma loro sono sicura che con tutti gli elementi e forti dell'esperienza, anche negativa talvolta che gli lasciamo in eredità, potranno cambiare questo mondo. Ecco, sessore, ma la conferenza del Presidente delle Regioni Autonome si discutono anche questi problemi? Assolutamente sì, anche perché sono problemi che prima di tutto caratterizzano tutti i nostri territori sono problemi che se non affrontati rischiano di diventare un peso eccessivo anche dal punto di vista economico quindi fosse anche per una responsabilità di questo tipo senza dubbio l'approccio deve essere immediato e deve essere assolutamente concreto. Ribadisco, Expo con il suo tema centrale è un richiamo di tutte le coscienze sia dal cittadino semplice, che semplice ovviamente non è, a quelli che sono i grandi capi di Stato ma direi che in questa direzione si sta veramente andando. Il nostro Paese noi sappiamo che è diviso in regioni, di serie A, di serie B regioni che arrivano ad essere zero soprattutto per quanto riguarda la sanità per esempio dal punto di vista della sensibilità dell'ecosistema, del rispetto all'ecosistema di una nutrizione che sia, diventi anche questa etica ecco, le regioni che punteggio hanno? Ma le dirò, va proprio un po' a sensibilità, temo Devo dire che in regione Lombardia ci sono tanti soggetti, rappresentanti della società attiva che ci sollecitano, quindi è un po' difficile stare a disinteressarsi di questi temi a prescindere dalle sensibilità personali. Devo dire però che io ho già ereditato tutta una serie di progetti su cui stiamo investendo molto, che sono un po' il frutto probabilmente anche di una necessità che è legata ad un territorio iperproduttivo ma che, insomma, una cui produzione, un cui tessuto industriale ha comunque un peso In generale devo dire che trovo una facilità di interrelazione con regioni come l'Emilia-Romagna per esempio, piuttosto che il Veneto o il Piemonte Altre regioni probabilmente questa sensibilità la dimostrano un po' meno o forse sono troppo lontane rispetto a un rapporto diretto con quello che è il territorio lombardo L'importante per quanto ci riguarda è che regione Lombardia ci sia e che voglia esserci anche in futuro, convintamente Per ringraziarla, comunque, per Milano e poi per l'Italia cosa significa questo ESPO, questa vetrina straordinaria dove è il mondo in competizione? Beh, direi, se me lo permettono in generale i cittadini delle altre regioni una conferma di quanto la Lombardia e Milano siano grandi nel mondo Presidente, praticamente tanti anni fa eravate un po' visionari vi si credeva dei visionari? Adesso o si passa da quelle che sono le vostre indicazioni o il pianeta muore? Sì, in realtà il pianeta ha delle grosse possibilità di sopravvivenza però tanto dipende, come dimostreremo anche oggi, dalle nostre scelte individuali dalle scelte che faranno le istituzioni e dalle scelte che faranno le imprese devono essere scelte consapevoli sapendo che quello che si mangia ha un'impronta idrica, cioè consuma acqua dolce ha un'impronta di carbonio, quindi produce gas climalteranti e ha anche un'impronta in termini di azoto quindi può portare all'inquinamento dei suoli e delle acque se noi sappiamo misurare quanta è la nostra impronta di ogni singolo piatto che ci mettiamo sul cibo possiamo salvare il pianeta e contribuire ad abitarlo insieme a tutte le altre specie Ma lei ritiene che si fa una giusta informazione? Che i cittadini del mondo, non soltanto gli italiani, siano informati su quelli che sono i pericoli che corre la terra se andiamo così a rotta di collo nel distruggere l'ecosistema? Beh, una domanda intelligente sicuramente presuppone una risposta negativa perché? Perché la pubblicità commerciale non ha degli scopi informativi o educativi ha degli scopi che incentivano il consumo, incentivano la produzione di quello che costa meno e che spesso viene prodotto a danno dell'ecosistema scaricando quindi i costi sul nostro patrimonio collettivo che è il nostro pianeta, le nostre foreste, le nostre acque la nostra stessa possibilità di vita allora compito di questi convegni formativi è dimostrare che un'informazione diversa è possibile, anche comprensibile in termini ragionevoli per adulti, per bambini come facciamo con i nostri programmi scolastici e per tanti cittadini che da Expo in poi hanno una diversa consapevolezza di che cosa vuol dire un'alimentazione sana per sé e sana, buona, per il pianeta Quindi da questo Expo, da questa grande vetrina mondiale vi aspettate delle risposte che aiutino a vivere meglio in seguito? Sicuramente sì, non solo per la carta di Milano che dovrebbe portare a questo impegno globale di istituzioni, imprese e cittadini in questo senso, ma perché sono convinta che qualunque dei milioni di visitatori che sono entrati qui non possono non lasciare questo sito con dei dubbi delle domande, una diversa consapevolezza delle sfide globali della propria vita e poi spetterà loro continuare a cercare di essere informati seguendo le iniziative giuste e capendo che c'è un'altra informazione rispetto a quella commerciale, come fate voi con i vostri media che contribuite a fare informazione corretta è proprio un grande risultato Quanti anni ha questo bellissimo animaletto? Ne ha quasi 50 50 anni che calpestiamo questo pianeta cercando di farlo nel modo più leggero e sostenibile C'era una vecchia pubblicità del WWF in cui Fulco Pratesi, passata da pubblicità Progresso smantellava tutte le insegne, metteva nei cartoni tutto quello che avevamo negli uffici perché il nostro ruolo è quello di avere un pianeta dove noi non siamo noi WWF non siamo più necessari perché ogni cittadino è in grado di custodirlo Cibo e alimentazione hanno diverse valenze quindi e non da ultima quella spirituale In questa giornata in cui si parla di cibo come medicina, cibo per la salvezza del mondo vorrei chiedere la sacralità del cibo La sacralità del cibo corrisponde proprio al suo simbolismo di nutrimento è un dono, bisogna ricordarsi che è un dono ed è il frutto di una responsabilità che ogni uomo e donna, ogni credente ha all'interno proprio di questo mondo della coltivazione o gestione della terra quindi i frutti proprio che noi riceviamo come alimentazione sono il frutto già di un ciclo di gestione ma sono tutti insieme un dono che dovrebbe ricordarci alla nostra responsabilità anche nella gestione della nostra vita e dell'amore nei confronti del prossimo Lei nel suo intervento ha parlato di questa armonia che deve essere una relazione diretta L'armonia forse è il termine che avvicina tutte le religioni nella nostra responsabilità perché oltre a essere fratelli, oltre a essere vicari, servi, credenti dobbiamo pensare a qual è l'obiettivo e l'obiettivo della nostra responsabilità nel mondo è proprio di concorrere insieme ad una armonia e l'armonia è proprio il riflesso di un'attenzione spirituale vissuta con un certo ordine mentre invece il disordine, le disarmonie sono proprio l'esasperazione o il prevalere dell'individualismo, dell'egoismo, della violenza che facciamo su noi stessi e sull'altro dell'egoismo o dell'ignoranza che vogliamo avere di noi stessi e dell'altro Grazie a tutti